Prima corsa, 1600 metri, uno Cin Cin, Ivano, Ronzo, Convartini, due Turchese Car, Stefano Manzato, tre Tonga, Matteo Zaccherini, quattro Tosca Grip, Gustavo Matarazzo, cinque Tronda Wise, Roberto Baroncini, sei Tason, Del Rio, Maurizio, Femia, sette Tata Sam, Marco Montaldo. Autostarto all'attacco della piegata delle scuderie. Dall'interno verso l'esterno, Cin Cin, Turchese Car, Tonga, Tosca Grip, Tronda Wise, Tason, Del Rio e Tata Sam. Favori del pronostico per il numero tre, Tonga. Macchina sulla retta di pronte, prima dello stacco sbaglia Tason, Del Rio. Macchina che aumenta velocità, Tronda Wise per il comando. L'errore di Tason Del Rio. Numero sei, Tason Del Rio, squalificato. All'avanguardia Tronda Wise, in seconda posizione Cin Cin, in terza la favorita Tonga, poi Turchese Car con alato Tosca Grip, avanti a Tata Sam. 13,7 e lancio, la media di 1,08 e 5. Continua al comando Tronda Wise. Si esce dalla piegata, Tronda Wise precede Cin Cin. Tronda Wise avanti a Cin Cin, 28,6 il quarto, 14,9 per gli ultimi 200 metri. Si viaggia a media di 11,5 con Tronda Wise patta avanti a Cin Cin. In terza rimane Tonga, in quarta Turchese Car, poi Tata Sam e Tosca Grip. I 600 in 45,9, 17,3 per gli ultimi 200, 16,5 la media. Continua al comando Tronda Wise. Tronda Wise avanti a Cin Cin, poi Tonga mentre sbaglia Tata Sam. Tonga con azione superiore si profila all'esterno della leader. 1,0,2,4 agli 800, 33,8 gli ultimi 4, 16,5 gli ultimi 2. Tronda Wise replica all'attacco di Tonga, le due in linea. Avanti a Cin Cin, il giro in 16,4, 14 netti per gli ultimi 200. Tronda Wise di dentro, a largo rimane Tunga. Tronda Wise per gli ultimi 2, Cin Cin ha trovato qualsiasi termine. Tronda Wise che si riprende all'altro nel finale. Tronda Wise che si riprende all'altro nel finale. Tronda Wise per la prevalenza ancora su Cin Cin, poi su Tonga davanti a Tosca Grip e Turchese Car. 14,6 gli ultimi 2, 39,2 gli ultimi 4, 1,59,2. Il tempo totale media al chilometro di 1,14,5. Le battute conclusive a rallenti con Tronda Wise che riprende il comando proprio nei pressi del traguardo. Per battere Cin Cin, dunque Tronda Wise del signor Urbano Campanelli per il training di Mauro Baroncini e la guida di Roberto Baroncini. Secondo Cin Cin, terzo Tonga.